Una mattina, mentre andavo al lavoro, vidi qualcosa muoversi vicino a un cassonetto dell'immondizia. Era un cucciolo di cane, tutto sporco e bagnato. Mi guardava con degli occhioni tristi. Mi avvicinai con cautela, fin quando il cane smise di tremare e conquistai la sua fiducia. Non potevo lasciarlo lì tutto solo. Così lo presi in braccio e lo portai a casa con me. Era molto magro e aveva fame. Gli diedi da mangiare e da bere e lui divorò tutto velocemente. Poi lo pulì e trovai un morbido tappetino con una coperta calda dove poteva dormire. Da quel giorno quel cucciolo è diventato il mio migliore amico. L'ho chiamato Leo. Ogni giorno, quando torno a casa, Leo mi salta addosso e mi riempie di feste. Leo è un cane di piccola taglia, con un pelo folto e morbido di colore bianco e macchie marroni che gli coprono un occhio e parte della schiena, rendendolo davvero unico. Non sono sicura della sua razza esatta, ma credo che sia simile ad un Jack Russell Terrier, vista la sua energia senza fine e l'intelligenza acuta. Una delle caratteristiche distintive di Leo, oltre al suo aspetto, è la sua vivacità. È sempre pronto a giocare e ad esplorare ogni angolo della casa e del giardino. Ha un salto incredibile, capace di raggiungere il divano o il letto con un solo balzo, tipico dei Jack Russell Terrier, una razza nota per la sua agilità. Nonostante la sua piccola statura, Leo ha un coraggio da leone. Non esita mai ad abbaiare non appena vede un volto nuovo dentro casa sua, anche se poco dopo diventa un giocherellone. Inoltre, Leo ha un modo tutto suo di comunicare. Anche se non può parlare, usa i suoi occhi super espressivi per farmi capire se è felice, spaventato o se ha bisogno di qualcosa. È incredibile quanto possiamo capirci bene, nonostante la barriera del linguaggio. Leo ha sempre un grande appetito e sono molto attenta a ciò che mangia, per assicurarmi che rimanga sano e forte. Normalmente, la sua dieta si basa su cibo secco specifico per cani di piccola taglia, che gli fornisce tutti i nutrienti necessari per la sua energia e vitalità. Mi piace scegliere marche di alta qualità, che includono carne come primo ingrediente, insieme a verdure, per garantire un'alimentazione equilibrata. Oltre al cibo secco, gli do anche qualche premio sotto forma di bocconcini di carne o biscotti per cani. Questi piccoli regali sono importanti per il suo addestramento. Devo fare attenzione, però, a non dargli cibi pericolosi per i cani, come cioccolato, uva, cipolle o alimenti troppo grassi. Anche se mi guarda con quegli occhi supplicanti ogni volta che mangio qualcosa, so che è per il suo bene resistere alla tentazione di condividere il mio cibo con lui. Inoltre, Leo ha sempre a disposizione una ciotola di acqua fresca, perché è fondamentale che rimanga ben idratato durante tutto il giorno, soprattutto dopo l'esercizio o nei giorni più caldi. Leo adora giocare. E abbiamo una serie di attività preferite che ci tengono entrambi attivi. Uno dei suoi giochi preferiti è sicuramente il riporto. Gli lancio una pallina o un giocattolo e lui corre a prenderlo per poi portarmelo indietro, aspettando eccitato che lo lanci di nuovo. Questo gioco non solo lo aiuta a bruciare energia, ma rafforza anche il nostro legame e la sua capacità di obbedienza. Un'altra attività che Leo ama particolarmente è il percorso ad ostacoli che ho allestito nel nostro giardino. Con l'aiuto di alcuni ostacoli semplici, come tunnel, piccole siepi e cerchi, Leo impara a seguire i comandi mentre si muove attraverso il percorso. È un ottimo modo per stimolare la sua mente e mantenere in forma il suo corpo agile. Ogni volta che completa il percorso gli do qualche piccolo premio. Visto il suo talento, non escludo che in futuro possa partecipare a qualche gara. Purtroppo ci sono stati anche momenti negativi nella vita di Leo, come quando ero costretta a lasciarlo solo almeno sei ore al giorno per via del mio lavoro in ufficio. Leo ha sofferto molto per questo, fino a quando non ho deciso di donargli una compagnia. Capendo quanto Leo soffrisse durante le lunghe ore di solitudine, iniziai a pensare a come potessi alleviare la sua tristezza. La soluzione mi venne quasi per caso, durante una visita al negozio di animali del quartiere, per acquistare il suo cibo abituale. Lì, fra i vari animali, mi colpì il richiamo allegro di un pappagallo. Era un bellissimo esemplare di parrocchetto monaco, con piume verdi e blu, e un'espressione curiosa. Mentre lo osservavo, il commesso mi raccontò di quanto i pappagalli siano compagni intelligenti e affettuosi, capaci di creare legami profondi con i loro proprietari e persino con altri animali domestici. Mi spiegò che, con la giusta attenzione e cura, un pappagallo sarebbe potuto diventare un ottimo amico per Leo, offrendo gli stimoli e compagnia durante le ore che trascorrevo fuori casa. La decisione non fu immediata. Sapevo che prendere un pappagallo significava impegnarmi a curare un altro essere vivente, con le sue esigenze e responsabilità. Tuttavia, pensando al bene di Leo e alla possibilità di regalargli un compagno che potesse alleviare la sua solitudine, decisi che era la scelta giusta. Dopo aver fatto le dovute ricerche e assicuratami di poter procurarmi una gabbia spaziosa, tornai al negozio per portare a casa il nuovo membro della famiglia. Lo chiamai Gino, ispirata dalla sua vivacità e dal suo spirito indomabile che mi aveva colpito fin dal primo momento. Introdurre Gino nella nostra vita non fu privo di sfide. Mi assicurai che Leo e Gino si abituassero l'uno all'altro in modo sicuro e graduale. Inizialmente Leo era confuso e forse un po' geloso dell'attenzione che davo al nuovo arrivato. Tuttavia, con pazienza e supervisione, i due iniziarono a mostrare curiosità reciproca e con il tempo questa curiosità si trasformò in un'amicizia inaspettata. Gino si è rivelato una compagnia eccellente per Leo. Non solo riempie la casa con i suoi canti e le sue imitazioni divertenti, a volte Gino abbaia come se fosse un cane, ma è anche affascinante vedere come interagiscono. Leo spesso si accuccia vicino alla gabbia di Gino, osservandolo con interesse mentre Gino gli parla, con i suoi suoni e canti. Grazie all'arrivo di Gino, la solitudine di Leo è diventata un lontano ricordo. E chi avrebbe mai detto che la chiave per la felicità l'avrei trovata nel canto di un pappagallo e nella gioiosa corsa di un cane? Certamente non io, ma ora non posso immaginare la mia vita in alcun altro modo. Grazie per la visualizzazione. Se non è un grosso problema, supportaci cliccando like, commentando, iscrivendoti e attivando la campanellina. Sarà di supporto per aiutarci ad aumentare la qualità del canale.